Sono indagati per abuso d'ufficio dalla procura di Arezzo Antonio Pironti e Riccardo Sora, i due ex commissari di Banca Etruria. Pironti e Sora, nominati nel febbraio 2015, guidarono l'Istituto di Credito Arettino sino alla risoluzione del novembre successivo. La vicenda è quella relativa alla cessione al credito fondiario, ora controllato dal fondo Elliot, degli oltre 301 milioni di sofferenze dell'Istituto di Credito, realizzata a ridosso della risoluzione a pochi giorni dunque dal decreto salva banche. Un pacchetto di crediti deteriorati dal valore nominale di 301,7 milioni di euro, che venne venduto però per 49,2 milioni, ovvero circa il 17% del valore nominale. L'ipotesi di reato dunque per i due ex commissari è abuso d'ufficio, ma si valutano anche altri profili penali. Secondo la pubblica accusa, la vendita al 17% delle sofferenze sarebbe stata infatti sottostimata, venne comunque avvallata da Banca d'Italia. Sora e Pironti sono iscritti nel registro degli indagati da alcuni mesi al vaglio del pool dei magistrati, che indaga sul crack di Banca Etruria guidato dal procuratore capo Roberto Rossi, dunque l'operato degli ex commissari dell'Istituto di Credito Arettino.